Le persone che occupano abusivamente l'immobile di via 10 giugno ex Camuzzi avranno ancora qualche settimana di tempo per trovare una soluzione alternativa. Questa mattina si è presentata la polizia municipale e si pensava potesse avvenire uno sgombero. In realtà non ci sono le condizioni per sgomberare queste sei persone. Si tratta di tre uomini e tre donne che hanno trovato questa sistemazione provvisoria e sicuramente abusiva, ma che non hanno davvero altro posto dove andare. Ci sono situazioni molto particolari, soprattutto c'è una ragazza in Cinta che con il suo compagno sta cercando una nuova sistemazione e chiedono al comune di trovare un alloggio ERP, una casa popolare, proprio perché tra pochi mesi nascerà il loro bambino e quindi vogliono sistemarsi. Siamo qua e cerchiamo di fare di tutto per stare qua, perché comunque come vedi siamo tra ragazzi tranquilli, non facciamo casino né niente. Cioè ci arrangiamo per il nostro conto, per mangiare ci arrangiamo come possiamo, andiamo dai preti a prendere le robe o di qua e di là. Se ci fanno essere qua è una buona cosa per noi. Anche perché, tu possiamo dirlo perché si vede, sei anche incinta. E non potrebbero sbattere fuori con una ragazza che è in gravidanza, almeno quello che penso io. Hai pensato a quando nascerà vostro figlio, come vi potrete sistemare? Sperando prima che nascerà, che l'assessore, il sindaco, qualcuno ci dia una casa. I cancelli erano stati aperti questa mattina attorno alle 7.45. Sul posto si sono presentati anche il consigliere comunale della sinistra per Piacenza Carlo Pallavicini ed altri appartenenti al NAP per chiedere che le sei persone che stanno occupando lo stabile siano lasciate nell'edificio. La Polizia Municipale ha poi spiegato alla ditta, chiamata a mettere in sicurezza lo stabile, che non ci sono gli elementi per allontanare i sei, visto che non è stato emesso né dal Tribunale né dal Comune un provvedimento in tal senso. Gli operai hanno quindi murato porta e finestra al primo piano, lasciando però aperta la porta d'ingresso, anche perché gli occupanti non se ne erano andati e non potevano essere bloccati all'interno. La proprietà, la Camuzia è una procedura giudiziale in atto, quindi c'è un curatore per la parte immobiliare, dovrà quindi seguire l'iter per richiedere lo sgombero degli occupanti. Fino ad allora nessuno può intervenire. Qui viviamo senza acqua corrente, elettricità e gas, ma ci siamo organizzati bene, hanno aggiunto gli occupanti. Ovviamente se ce ne dobbiamo andare non possono sbatterci in mezzo alla strada senza casa, soldi e lavoro. Per la ragazza incinta ci sarebbe la possibilità di andare in una comunità protetta, ma non vuole separarsi da Gaetano, il suo compagno. Seguiamo la vicenda da vicino, ha commentato l'assessore Stefano Cugini. Ovviamente non possiamo andare oltre le nostre competenze. Siamo pronti ad aiutare queste persone nelle forme e dei modi che ci sono consentiti.